In vista delle elezioni politiche del 2023 si sta pensando, anche dopo il congresso romano di articolo 1, a creare una lista unica con il Partito Democratico e il Partito Socialista. Probabilmente, ed in discrezioni, pare che questi tre simboli di partito daranno vita ad una fusione dei rispettivi movimenti all'interno di un'unica lista da presentare ai votanti nel 2023. E la questione, almeno per quanto riguarda la provincia di Salerno, non è di poco conto, perché Piero De Luca, Federico Conte ed Enzo Maraio si ritroveranno a stare nuovamente insieme con obiettivi e programmi condivisi. Insieme, come dicono i ben informati, anche in qualche collegio uninominale di distanza, perché pare sempre più probabile che per Maraio e Conte, insieme ad una possibile candidatura in una lista proporzionale lontana dalla provincia di Salerno, ci sia anche una presenza all'interno di un collegio maggioritario. Sempre da indiscrezioni, pare infatti che Maraio sia indicato nel collegio dell'Agro, Conte in quello che comprende Eboli e Cilento.